E' una bufala e il ricovero di Giulia non ha nulla che vedere con il vaccino, lo assicura il primario di anestesia e reanimazione di Marche Nord, Michele Tempesta, che oggi interviene sulla notizia che si sta diffondendo in questi giorni a Fano, anche mediante Whatsapp. Nei messaggi si leggeva che la tredicenne sarebbe stata ricoverata d'urgenza per un malore improvviso e che tra le cause sarebbe potuta rientrare anche quella della seconda somministrazione del siero anti-Covid avvenuta circa due mesi fa, ma il medico dà una secca smentita. Dottore facciamo un attimo di chiarezza, intanto conferma il ricovero di una ragazza di Fano? Sì, abbiamo ricoverato in reanimazione una ragazza di Fano da circa 5-6 giorni, è seguita da noi. Non ha nessun paziente ricoverato in reanimazione, sintomi o patologie correlati alla somministrazione di vaccino. Nel passato abbiamo avuto uno o due casi che abbiamo segnalato, ma attualmente assolutamente non c'è nessuna patologia correlabile alla somministrazione di vaccino. Mi smentisce assolutamente quello che sta emergendo in questi giorni? Assolutamente la smentisco, sì. Invece per quanto riguarda il reparto Covid, ad oggi quanti pazienti sono ricoverati? Ad oggi siamo 8 pazienti ricoverati, di età compresa tra 50 e 65-70 anni. Quanti erano vaccinati e quanti no? Attualmente c'è un vaccinato, un vaccinato, 7 non vaccinati. Il trend dei ricoveri in reanimazione adesso è in lieve discesa. L'aumento di contagi in questi giorni, se porterà a un aumento di ricoveri, si vedrà tra una decina di giorni circa. Attualmente siamo in lieve discesa, eravamo 12 fino a pochi giorni fa, adesso siamo a 8. Quindi situazione al momento sotto controllo, ma ancora non bisogna abbassare la guardia? Al momento sotto controllo, ma assolutamente non abbassare la guardia, sì. Grazie.